I carabinieri hanno eseguito in provincia di Cosenza cinque misure cautelarie messe dal GIP del Tribunale di Cosenza nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili a perio titolo dei reati di detenzione, eccessione di sostanze stupefacenti, aggravata e continuata e favoreggiamento personale. L'operazione, denominata Brother, condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Rogliano, supportati da personale del 14esimo battaglione Calabria e da unità cinofila dello squadrone eliportato cacciatore di Calabria di Vibo Valencia, ha portato allo smaltimento di una importante piazza di spaccio. I provvedimenti riguardano soggetti residenti nei comuni di Cosenza, Rogliano, Grimaldi, Malito e San Mango d'Aquino. Perquisizioni domiciliari sono in corso a carico di persone coinvolte a vario titolo nel traffico di sostanze stupefacenti.